Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati! Oggi vi mostro alcune cosine di Yves Rocher, una ragazza che si chiama Federica, che saluto, ciao Federica e grazie mille per avermi scelto, mi ha contattato su Instagram, mi ha proposto di selezionare dei prodotti che avessi voluto voglia di testare, quindi vi lascio ovviamente il suo contatto nell'infobox qualora voi vogliate contattarla perché lei è consulente di bellezza, quindi poi insieme a lei potete scegliere i prodotti che fanno al caso vostro e soprattutto organizzarvi per riceverli per la spedizione. Io adesso vi mostro che cosa ho scelto io e vi mostro anche due o tre idee regalo per il Natale veramente carine perché devo dire che da questo punto di vista Yves Rocher insomma difficilmente si batte, propone dei set veramente carini che difficilmente deludono chi li riceve perché comunque si tratta di cose abbastanza piaccione, sono cose per il corpo, per la detersione del corpo, l'idratazione, non si va magari così nell'intimo come può essere l'abbigliamento o anche il make-up, sono cose, guardate la collezione di Natale, che si presentano da sole, sono bellissime, profumate, già pensate per essere comunque un regalo magari in una scatola apposta, in una pochettina apposta e quindi devo dire che anch'io questo Natale punterò parecchio su Yves Rocher. Ecco qui il pacchettino che Federica mi ha gentilmente inviato, mi è arrivato ieri, sì, allora ho scelto ed ero veramente super curiosa di provare questo olio struccante della linea Sensitive Camomile con concentrato di camomilla selvatica per pelli sensibili, lo proverò già stasera, che come vedete oggi sono truccata, sono 150 ml, vi leggo perché sceglierlo elimina efficacemente tutte le tracce di trucco, anche waterproof e non unge e senza profumo, viene applicato sul viso asciutto, massaggiato, io ricordo non uso i dischetti quindi faccio tutto con le mani per risolvere il trucco e risciacquato, io in particolare mi trovo molto bene non andando a contatto con l'acqua, quindi quando ho l'olio, ve l'ho già mostrato in diversi dei video che faccio struccaggio e skincare serale, video di 3-4 minuti veloci veloci così per farci una risata insieme perché sono un po' matta dopo averlo applicato sul viso e sugli occhi non entro in contatto con l'acqua perché non tutti gli oli, come ci spiega? per adesso l'ha spiegato credo solo su Instagram, la mia amica Marina era su Mashka Beauty olio idrofilo, olio non idrofilo, lei è bravissima in tutto quello che riguarda skincare, insomma se siete appassionati andate a seguirla perché lei proprio vi spiega le cose, vi dà delle nozioni in particolare ecco io cosa faccio? Entro subito diretta con una mousse e vado con la mousse a sciacquare tutto olio e trucco sciolto con l'olio mi trovo benissimo così Marina mi diceva che questo olio è recente se non sbaglio perché prima ce n'era uno che era in versione spray, non lo so sì perché questo al pump che aveva il tappo giallo credo, quello ha avuto un successo pazzesco quindi sono curiosissima di provare questo, io non avevo provato neanche quello ho scelto forse proprio il promosso da Marina questo prodottino che è uno shampoo in questo caso ma c'è anche in altre versioni proprio specifico per i capelli castani, per dare i riflessi, io ogni tanto faccio il colore ma veramente una volta ogni 4-5 mesi, 2-3 volte all'anno ecco forse adesso sarebbe ora di riprenderlo, io diciamo che non ne sento il bisogno, poi ogni tanto capito in quei camerini in cui ci sono luci pazzesche che mi fanno sembrare bicolor, tipo fino a qua chiara e poi scura comunque quando avrò voglia senza fretta perché per adesso i bianchi sono ancora proprio si contano sulle dita di una mano, speriamo ancora a lungo voglio assolutamente provare questo prodottino perché comunque a me piace fare il colore uniforme senza tanti riflessi, senza chatouche, colpi di sole, cose particolari perché credo che io stia meglio con un colore piuttosto uniforme ma il riflesso naturale, quello che dà proprio anche la vacanza al mare insomma quello che si vede alla luce del sole è molto bello quindi anche questo lo proverò in settimana era tempo che lo volevo prendere, non l'ho fatto quest'estate solo perché è una profumazione e adesso che lo hanno usato confermo più autunnale, invernale, ecco magari non proprio estiva ma comunque proprio se vogliamo stagionalizzarla è perché è talmente buona che andrebbe bene sempre questo vedo che la ring light mi fa riflesso, vi dico io, è il latte corpo all'argan e alla rosa questo è da 200 ml ma c'è anche la versione che credo che sia il doppio e ha un profumo meraviglioso cioè io vi dico solo che tutto il pacco che mi ha inviato Federica aveva questa profumazione vi dico che lo volevo provare da tempo perché ne aveva parlato ma secondo me ancora più di un anno fa c'era il pandemonium, lei aveva detto che gliel'aveva inviato l'azienda ma ne richiedeva a pacchi perché era il latte corpo suo preferito della vita di sempre profumazione spaziale e quindi insomma dovevo provarlo effettivamente è una profumazione dolce ma che in qualche modo richiama anche proprio la classica profumazione pulita di bagnoschiuma quindi neanche così tanto invernale assolutamente molto molto buona poi vi dirò anche come idratazione e le etichette di questa linea argan e rosa sono semplicemente meravigliose infatti poi parliamo dei set regalo che magari si concentrano su questa profumazione che anche la crema a mani si presenta da sola sono bellissime io sono molto attratta da questi ricami dorati quasi un po' orientaleggianti che mi ricordano un po' la linea labdano di tesori d'oriente che vi facevo vedere in qualche altro video tutta così un po' oro e orientale ho voluto prendere qualcosa anche della collezione limitata che trovate dal ve lo dico subito dal 30 ottobre al 27 dicembre io vi dico che il pack di questo prodotto è spaziale tra l'altro sono 200 ml in tubo eco-friendly è anche leggermente in risalto bellissima tra l'altro non è la solita collezione natalizia qui siamo sui toni del blu karité magic questo è un burro ultra ricco per la doccia per pelli secche non vedo l'ora di provarlo anche perché la mia pelle richiede proprio qualcosa ve lo dico spesso che già nella detersione già sotto la doccia va aiutata o con un olio doccia o con uno di questi prodotti balsamo doccia o con un doccia crema bello corposo quindi vi farò sapere comunque è bellissima è per quello che vi dico che insomma anche per dei regali si presentano da sé voi sapete quello che pagate però insomma sono veramente dei prodotti anche belli proprio belli se vi piacciono le cose belle da vedere il brochet ci sto dando dentro ultimo prodottino non ne avevo strettamente bisogno ma sapete che io amo il balsamo labbra il burro cacao che lasci leggermente colore non troppo perché se è troppo sinceramente metto un rossetto anche perché se sono colorazioni un po' lamponose rossicce non mi piace neanche che sembri così imperfetto che sbordi troppo ma sapete che io adoro il labello alla ciliegia non quello alla fragola che è rosso e non ne sta bene più rossiccio proprio quello un po' più scuro un po' più profondo e è esattamente molto simile a questo che è invece il balsamo alla mora infatti Federica quando io l'ho ordinato insomma mi ha detto ho detto guarda colora le labbra le ho detto perfetto era quello che cercavo e ve lo mostro subito lo avevo su anche poco fa però parlando mangiando chiaramente se ne è andato anche se avete visto che avevo comunque un po' di colore eccolo qui vedete fa questo effetto leggermente labbra morse labbra sane piene un leggerissimo effetto glossato luminoso a me piace tantissimo perché comunque avete un prodotto idratante però riuscite anche a dare quel tocco di colore io per i miei colori un po' invernali come stagione freddi che diciamo sono credo valorizzata dai contrasti alti sto secondo me meglio con o il balsamo labbra nude oppure queste colorazioni un po' lamponose e questo alla mora invece non lampone è perfetto è proprio bello e sta anche molto bene con il maglioncino quindi se volete qualcosa di informale luminoso che però sia comunque un prodotto idratante sono perfetti questi prodottini dovete solo capire con quale colore con quale sfumatura voi state meglio io li trovo perfetti ma io adesso sono truccata un po' di più ma anche solo con un filo di mascara siete già un pochino più curate ecco e adesso passiamo alla collezione natalizia che è uno spettacolo ci sono dei pezzi in edizione limitata anche singoli questo per esempio è il gommage corpo e qui iniziamo con soli 4 euro e 95 sì 5 euro insomma avete la crema mani e il balsamo labbra nella scatoletta ad appendere credo anche all'albero di natale sempre di questa collezione avete anche la candela guardate che spettacolo questa casetta che cos'è abbiamo un balsamo labbra la crema mani il bagno doccia e il gommage corpo sono nella versione piccolina 10 euro per esempio una collega ditemi che non la fate contenta si presentano bene sono prodotti comunque piaccioni che vanno bene un po' per tutti nel pack già pensato per un regalo edizione limitata colori belli che mettono di buon umore trovo che siano proprio delle idee pazzesche oppure spostandoci dalla collezione natalizia avete un'amica che ama particolarmente il cocco sapete di non sbagliare 19 euro e 95 avete il sacchettino zainetto riutilizzabile per i giochi per esempio mannaggia non ce n'è mai abbastanza di contenitore i sacchetti per i giochi per i bambini e avete il bagno doccia l'acqua profumata che la Mari piace tantissimo il balsamo labbra il latte corpo e la crema mani fate un bellissimo regalo con 5 prodotti oppure guardate questo veramente mi ha colpito innanzitutto perché appunto la linea l'argan ci sono dei pezzi della linea l'argan è proprio intrigante come etichette molto elegante molto molto bella avete lo scrigno e quindi anche una confezione da riutilizzare e poi avete 9 prodotti quindi 30 euro 9 prodotti più lo scrigno il latte corpo organe rosa che vi ho mostrato prima e vi assicuro che inonderete la vostra amica di una profumazione veramente delicata sensuale intergante elegante bellissima il gel doccia alla vaniglia e il burro cacao questo è la salvietta il sapone per le mani liquido e quello nella saponetta la crema mani è una semplice crema mani però capite l'oggetto bellissimo questo invece credo che sia il bagno doccia e la mist l'acqua profumata la vaniglia quindi andate sul sicuro vi togliete anche un pensiero perché parliamoci chiaro in questa fase storica anche uscire le classiche domeniche parlo per gli altri perché io personalmente la domenica non mi sposto più di tanto però in cui centri commerciali sono super affollati a cercare tutti gli ultimi regali di natale non credo che possano più esistere almeno questo natale è un natale particolare questo natale anche commercialmente non si svolgerà certo a dicembre ma molto prima finché siamo in tempo oppure sarà tutto un po' online e vedete anche qui se volete per esempio risparmiare qui avete poco meno di 15 euro e è sempre un super set però nel cestino anche qui è riutilizzabile oppure avete un'amica che ama molto la cura delle mani meno di 13 euro avete l'olio esfoliante la crema mani idratante la base SOS rinforzante e il kit di lime carino un bel pensiero indicato per una persona che sapete che magari ha la passione di essere curata nelle mani nei piedi fate bella figura sapete quello che spendete quindi trovo che Yves Rocher faccia assolutamente centro amica amico cugina familiare collega che viaggia molto beati loro avete gel doccia concentrato shampoo concentrato odorante 48 ore salvietta e pochette 13 euro ecco io vi ho segnalato le cose che più mi hanno colpito facendovi vedere due o tre cose un po' diverse ci sono anche dei kit che costano qualcosina in più che riguardano la skin care ma in quel caso dovete conoscere le esigenze della persona quindi avere un rapporto un po' più intimo quindi magari sapete un po' già cosa regalare queste idee sono ottime e tornano utilissime per tutti quei regalini tra familiari tra colleghi eccetera eccetera che insomma vi portano anche tanto tempo via per pensarli invece così sono perfetti e sapete che sicuramente piaceranno quindi ringrazio ancora una volta Federica per avermi dato questa opportunità ma ovviamente adesso volevo un po' mostrarvi tutto sono curiosissima di provare le cose qua e là o in un video dedicato ne parleremo fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi prodotti se negli anni passati vi siete affidati a Everochet per scegliere i vostri regalini di Natale o no perché comunque i kit sono sempre presenti e le offerte anche vi ricordo che nell'infobox vi lascio il recapito credo Instagram poi sentirò Federica se preferisce qualcos'altro per rivolgervi a lei per i vostri acquisti grazie ancora a voi perché come ripeto sempre se un'azienda una persona qualcuno insomma sceglie di farmi testare i propri prodotti è perché dall'altra parte c'è un pubblico comunque attivo che ha voglia di recensioni nuove di novità e che soprattutto crede in me e ha fiducia nella mia sincerità e nel mio pensiero vi mando un bacio grandissimo e soprattutto voi non lo sentite mai super profumato e se vi va ci vediamo al prossimo video ciao